Bello vecchi trappanissime grazie siamo tornati finalmente qui con un nuovo FAQ dopo tanto tempo e veramente tanto come facciamo un FAQ Ma niente andiamo subito a cominciare con le domande molto veloci proprio Veneto una cerca di rossi, FAQ se vi trovassi improvvisamente nel coppio di una donna per un giorno che cosa fareste bello vecchi trappani un bacio dalla Sicilia? Allora io sicuramente mi toccherai le tette tutto il giorno A parte no prima tornerei nel 42 Ah giusto Tanto so donna Tanto sti cazzi E non combatterei E sti cazzi E poi mi toccherai le tette Tanto so donna non devo andare a fa la guerra mi tocco le tette E il 42 mi tocco le tette tutto Esatto Cosa chiede da San Gennaro? Ah sono giapponese Mi chiede la domanda è Dobbi In quale epoca sareste voluti nascere, vivere, nascere E' un bel video Si è tutto su Miss Italia No si io non il 42 Io sinceramente Io nel meglio epoca Chi è? L'epoca più brutta della storia dell'uomo Io invece nel meglio epoca Io sinceramente nel meglio epoca Io invece Lui tra tipo 150 anni, 200 No io invece infatti è strana come cosa Sarei voluto nascere fra qualche migliaio d'anni Cioè Vedete che figata Tutta tecnologia come è andata avanti E tutto quanto Cioè tipo avranno inventato chissà quante cose Che oggi neanche ci immaginiamo Quindi sarei voluto nascere fra centinaia di anni Di migliaia di anni Anche fra qualche milione di anni Perché sarebbe troppo bello Cioè non saremmo così Ma provate a immaginare fra qualche milione di anni Magari sono tutti stinti tra un milione di anni Cazzo ne sai Salvatore Ferrara Fuck il vostro mio ricordo delle superiori Mi salutate bella vecchi trava Comincio io perché lui non ce l'ha No Allora il mio ricordo più bello delle superiori È sicuramente il campo scuola Quando andavamo al campo scuola E in particolare Quello Oddio Sinceramente non Non so Noi abbiamo fatti due Uno a Madrid e uno a Vienna Forse è stato più divertente quello a Vienna Nonostante Madrid sia stato più bello Perché ovviamente la città È più bella Abbiamo visitato più cose Però forse quella a Vienna È stato più bello perché Ce lo siamo goduti di più Soprattutto la sera Potevamo uscire perché eravamo maggiorenni Quindi potevamo fare un po' come ci pare Mentre quella a Madrid Ancora c'eravamo 16 anni Non potevamo fare niente di che Cioè sì potevamo uscire Però è nascosto E quindi era un po' Una merda Capito? Perciò Tornavamo ovviamente a Vienna Tutti i giorni ubriachi Andavamo a bere La mattina ci dovevamo svegliare le 7 Infatti è stato È di che ho perso le mie energie E adesso E sta ancora recuperando Sta ancora recuperando Sì perché tipo Tornavamo le 3 ubriachi fraciche E poi le 7 andavamo per chiese Cioè Un po' per chiese Un po' per chiese Fantastico Ubriachi in chiesa Vabbè Puoi dire che sei stato ubriachi in chiesa Io sinceramente Non mi è venuto in mente un cazzo Perché dei superiori Non c'ho nessun bel ricordo Io mi posso dire lo scambio culturale C'è la Germania Ma mi ha fatto cagare pure quello Quindi Giusto il quinto forse Perché è proprio Cioè tutto un bel ricordo Perché ero Ero consapevole del fatto che era l'ultimo anno Quindi Basta E canna in bagno Forse si Forse dovresti Meglio evo Così a scolancia andavi Lo sai Dice Edoardo Vicaroni ci chiede Avete un solo gioco da giocare per il resto della vostra vita Quale sarebbe Ciao Edoardo GTA San Andreas Io invece vi do una risposta molto tecnica Cioè nel senso Vi dico anche il perché scegliere questo gioco Scegliere Destiny Perché È uno dei giochi più longevi che esistono Forse che sono mai esistiti E questo perché Perché Destiny è continuamente aggiornato E hanno detto anche all'uscita di Destiny Che l'avrebbero continuato ad aggiornare per altri cinque anni Perciò se proprio devo giocare un gioco solo Gioca Destiny Che è un gioco che comunque va Comunque sia Mi porta via cinque anni di vita Marisa Portoletto ci chiede Raccontate com'è andata Raccontate com'è andata la prima volta che avete provato a guidare Eh brutta La mia prima volta ufficiale È stata più o meno A nove anni Nove anni? Sì No no Nove otto anni Non mi ricordo Comunque stavo Ma qual è la penna di YouTube? Va regalo Vabbè stavo a Nettuno Dai parenti di mia zia E perché vi seguite a Nettuno? Perché non c'è Nettuno Quindi Nettuno ti può fare la multa ecco In pratica c'era C'era sta villetta E c'era la stradina che poi portava alla strada no? Però sta stradina Era sterrata E ai lati C'era tipo quei canalini per far scorrere l'acqua Comunque di terra In pratica c'era tipo due piccoli dirupi Ma piccoli E io ci sono andato dentro con la macchina La macchina è rimasta così Che taglio Poi vabbè quando ho 18 anni ho pesato tanto Sì la mia prima volta invece è stata Cioè Non mi hanno quasi mai fatto guidà Prima di prendere lezioni di scuola guida Però ho guidato ogni tanto quando mi faceva guida mio fratello E diciamo che andava abbastanza bene Però la vera prima volta ufficiale è quando sono andato a scuola guida E lì non so perché è fatto una figura di merda rara Perché io sapevo come se più o meno si faceva a muovere la macchina L'istruttore mi fa Sai più o meno i pedali come sono senza che te li spiego? Sì sì tranquillo Cioè De Cristo si fa la gamma io ho detto Fa ok partiamo E io metto i piedi sul truccoso E mi fa piede sulla frizione e piede sul freno E poi piano piano l'acceleratore Ok accendo la macchina Piede sulla frizione e piano piano l'acceleratore Si vede la macchina e fa E parte tipo avanti E si è fatta due metri Per fortuna il parcheggio dove stava era abbastanza Cioè la macchina stava abbastanza avanti Se no avevo già fatto un danno E manca era partita la lezione E già ho preso la macchina davanti Poi però ho apposto ho preso la patente Adesso sono tre anni e passa che ho la patente Che non finisce più Ho rotto esattamente Due giochi da PS2 Quattro della PS3 Ah ma tu non mi intendi da play? Io intendo proprio che giocava a palla dentro casa Io penso io giochi così Sì vabbè finisce più poi Io so di giochi mentre giochi console Giochi comunque giochi con la console Quattro giochi da PS3 Ho spaccato tre dischi Uno era FIFA, uno era COD L'altro non mi ricordo qual era Ho spaccato un armadio Ho spaccato il vetro di una porta Ho ancora una cicatrice Ho sfondato un mouse Perché stavo a giocare PC Una tastiera Ho spaccato Ho preso e l'ho lanciata per terra Ho sfondato il PC portaglie Cioè l'ho proprio rotto E ho anche rotto tutto il comodino Che c'avevo con camera A forza dei canci Io giocavo da piccolo Giocavo a palla dentro casa E poi mia mamma Giocavo a palla All'inizio giocavo a palla normale Ogni tanto andava su qualcosa Che stava su armadio Cioè sul mobile Quindi cascava qualche coccio Del cazzo che mia madre c'aveva Infatti ho detto Che cazzo ti compri e fai i cocci? E mi diceva Vabbè però qualcosa dentro casa Ci dobbiamo pure mette Mi ha detto una certa Che cazzo non deve ingegare dentro casa Però E quello la mi ha detto infatti E dopo di che Vabbè ho rotto tutto Dopodichè abbiamo ripiegato La sua palla di spugna Che quantomeno Non rompeva Le televisioni Ste cose qua Però comunque Si è andato un coscio Cascava comunque E quindi ho rotto tante di queste cose qua E Non si è rotta il cazzo Ti hai fatto rompere le cose? Vabbè giocando alla play Ho rotto qualche joystick Soprattutto a COD Mv2 soprattutto Tipo morivo e facevo Boh E così piano piano E partito tutto C'era ancora qua il joystick Da PS3 che ho rotto E invece Io con la pistola Anche La pistola a piombini Che aveva la Quella a gas proprio Io non pensavo Che era così potente Ho avuto la bellezza La grande idea Di sparare sull'armadio Con la pistola E l'ho bucato Perché poi i pallini erano in ceramica Quindi l'hanno bucata proprio C'era potentissima E l'armadio ovviamente Quello dei fori Che sta fuori al giardino Questo qua E poi Anzi Vorrei far vedere la cosa Però No Troppo spazio Comunque fidatevi C'è il buco Un'altra foto su Instagram Quindi seguitemi su Instagram Agab E niente Si tutto qua E poi c'è La grandissima domanda Di Thomas Bizzi che fa Se fareste Venire a Casa vostra una ragazza Che non conoscete Cosa fate? Io vorrei fare L'analisi grammaticale Su sta frase Però non fa niente Perché non abbiamo tempo E non vi interessa penso Comunque Se vi piaciuto questo pack Lasciamo 5.000 like E ci sarà nel prossimo pack Per lasciare delle domande Dovete mettere mi piace Alla pagina Facebook Esatto Perché è lì che faremo i post Perciò se volete Farci la domanda Per il prossimo pack Mette andate a mettere mi piace Sulla pagina Facebook Grananas Molto semplice Per la detta e grazie Tutto per questo pack E ci vediamo E ci vediamo Ciao